Ben trovati telespettatori del Sasso Nello Sagno, oggi il nostro appuntamento in onda d'Albino dove alle persone che incontreremo tra poco proporremo una domanda facile, potendo scegliere nel periodo storico un anno in cui nascere, quale avreste scelto? Più belli gli anni 60, 70, 80? Vi sarebbe piaciuto essere adolescenti in questo periodo? Sentiamo subito cosa ci dice la gente. Potendo scegliere un'epoca in cui nascere? Rinascerebbe nella sua? Vorrebbe rinascere in quella del nipotino? No, preferisco quella in cui sono nata io. Per quale motivo? Motivo è perché comunque è stato un periodo felice, senza conflitti, senza grossi problemi anche a livello economico, cosa che credo al giorno d'oggi loro affrontino problemi molto più grossi con noi e il lavoro e molte altre situazioni difficili credo per una famiglia o comunque per chi deve sostenere la vita oggi. Il periodo più bello per vivere, per nascere? La primavera. Che anno sei tu? 90, 30 marzo, quello che ti dico primavera. Non ti sarebbe piaciuto di più nascere negli anni 50, 60? Ma ogni tanto ci penso sì, però alla fine non sei mai quello che c'è. Potresti saperlo, ma non è la realtà. E invece nascere adesso? No. Essere un giovane di 10, 15 anni in questo periodo? No, tutti social, tutti... Mi godo i miei momenti in cortina, giocare a nascondino e i miei ricordi. Mille ragazzi in strada, diciamo, pallone, nascondino. Secondo te quindi è un po' più cambiata la vita tra i ragazzi, i 15 anni di oggi, i 15 anni dei 90? Sì, sicuramente. Sì, sì, vedo i giovani anche sul lavoro, sono tutta un'altra mentalità. Tutto social, il telefono è una parte del corpo ormai praticamente. E invece per voi i ragazzi dei 90? C'è la moto, c'è la motorino e le compagnie e si gira e via. Stiamo parlando di periodi in cui è bello nascere. Siete felici di essere nate in che anno? 2010. Eh? Sì. Sì? Sì. Perché cosa c'è di bello per i giovani in questa epoca? Beh, sicuramente la tecnologia e poi ci si riesce a conoscere tramite la tecnologia. Quindi i social secondo voi sono una cosa bella che i vostri magari i genitori non avevano? Sì. Ah? Come, cioè non portano male come tutti dicono, anzi portano esperienze. Sì, sempre. Dipende come li usi. Dipende come li usi. E voi li usate bene? Sì. Sì. Sì, sì. I vostri genitori non vi dicono mai, ai miei tempi era più bello? Sì. Sì, dicevano, ai nostri tempi ci godevamo più le esperienze, adesso state sempre al cellulare. E secondo voi hanno ragione o no? Non sempre. Cioè a volte, sì, staccare dal telefono fa bene, però non è che il telefono porta solo distruzione e male. Quindi secondo me dite la bellezza di questo periodo per voi è il cellulare? Sì. E gli amici però? Eh, non solo, cioè ci sono altre cose. Le esperienze nuove, il volere dell'indipendenza. Ascoltate mai la musica dei vostri genitori, per esempio? Sì, solo quando sono in macchina con mia mamma. Eh, cosa ti obbliga a ascoltare? Eh, Max Pezzali, Eros Ramazzotti. Oh, ma se vuole che faccio, no? E non giudicate quella una gran musica? Mmh. Vabbè, alcune canzoni ci stanno. Tipo? Eh, tipo, allora a me piace... Ma se vuoi te stesso? Eh, io non so i titoli però. Tipo forse l'universo tra di noi di Max Pezzali, non so se... Ok, quella mi piace abbastanza secondo me. Quindi anche qui siamo tutti sugli 883. Eh? Altri cantanti che ti fanno ascoltare? Mmh, buh. Niente, musica vecchia? Siamo noi che facciamo ascoltare canzoni. E cosa fate ascoltare? Eh, facciamo ascoltare le canzoni più... Sì, rap, non sempre piace. Tipo quali trapper, rapper? Mmh, sfere basta. E cosa vi dicono di sfere basta? Se l'avessimo avuto noi i nostri tempi, che bello. No, ci dicono questa non è musica, dicono solo parolacce. Che epoca avrebbe voluto nascere? In che anni? Adesso, per esempio? No. No. Perché non le piace il mondo di adesso? No, no, no. Era meglio la mia gioventù. Cioè, in che periodo... 64. È nata nel 64. Quindi ha vissuto la sua giovenenza negli anni 70. Perché era più bella la nostra di quella di adesso. Sì? Sì. Cosa trova di più bello allora rispetto a quelle che hanno i giovani? Ti divertivi di più, magari ti formavi gruppi, in compagnia, stavi lì, chierava, ci fanno questo casino. Ma non girava... A bere? Eh? A briacarsi? Per voi non era così? No, no, eravamo lì, magari... C'è che c'erano quegli stereopiccolini. Sì, 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 sì. Magari prendevamo scuola, non avevamo a mangiacassè, non avevamo anche a cantare. Ti divertire anche a cantare i vagabondi, non stavo all'idea ora. Non invidia ai ragazzi giovanotti di... No, della verità no. Di quelli che nascono... Per niente. No? No, no, no. Per quale motivo? Ho avuto i miei anni, sono del 74, per cui gli anni d'oro secondo me, 80, 70, a fine anni 70, 80. Quindi sei reputa fortunata? Quindi secondo me sì, sono anche mamma e secondo me mio figlio è fortunato, perché ho avuto io che ho vissuto in quei tempi, dove davvero si stava bene. Cosa c'era di più bello negli anni 80? La semplicità, ma quella vera, nel senso la genuinità, la semplicità e star bene proprio con gli altri. Cioè il fatto di condividere le esperienze insieme, senza magari essere nello stesso posto come adesso che ci sono i ragazzi, ma anche gli adulti. Stiamo magari tutti vicini, seduti a tavola insieme e poi tutti col cellulare, nel senso che magari comunichiamo tramite il telefono e non parliamo più tra noi. Quindi è venuto un po' a mancare questo aspetto qua e della condivisione, delle esperienze reali. Non ci sono più di adolescenti di una volta? No, secondo me no. Infatti sono un po' preoccupata, diciamo da mamma. Lo dici ogni tanto ai figli? Sì, esatto, sì, sì, no, racconto sempre quello che facevamo noi. Noi dicono sì, mamma, va bene. Però non posso non rendersi conto, perché è proprio completamente diverso. Però, va bene, giustamente ognuno vive nei propri tempi, però secondo me, no, io sì, sono particolarmente conto e c'è in generale. Che musica ascoltavi? Va bene, sono cresciuta proprio con me, mi piace la musica rock italiana, solo diciamo vasco, ma poi va bene, mi piace la musica metal, quindi faccio un po', sono un po'... E i ragazzi di oggi no, anche sulla musica purtroppo non ci siamo. Ah, anche lì, ascolti ogni tanto, anche lei ci provi ad ascoltare la loro musica? Sì, ho dovuto per forza ascoltare Sanremo e la musica lì, trap, come si chiama, così, perché a loro piace quella. Però va bene, magari un po' il mio, l'ho cresciuto un po', ogni tanto ascoltiamo, cioè in macchina, sentiamo magari i vergi in radio, gli faccio un po' ascoltare. Facciamo un po', un compromesso, insomma. Ma la trap non ti va giù? No, quella proprio no, è un po' difficile da digerire quella. Era meglio la musica della tua giovinezza? Sì, secondo me sì, poi ovviamente, dai, però abbiamo perso proprio, stiamo perdendo tanto, tanti, e anche un po', tanti valori, tanti, adesso non voglio fare la bacchettuna, cioè nel senso quello, però effettivamente... Grazie. Stiamo chiedendo qual è l'età più bella da vivere. E la sua, sicuramente. Lei non si è trovata bene quando era giovane? Sì, quando ero giovane, ma non più adesso. Dai 18 ai 20, ma come si viveva nei 18 ai 20 nella sua... Nella mia generazione, bisognava essere un po' più obbedienti ai genitori, filarigare un po' più dritto, adesso c'è più libertà, ovviamente. Ma se potesse scegliere, avrebbe preferito nascere, essere giovanotte in queste... No, mi sono trovata bene anche nel mio periodo io. Sì? Cosa c'era di bello nel suo periodo? Beh, ci divertivamo nei limiti del possibile, però sì, è stato bello anche lì, avevamo i gruppi dei giovani, ci si trovava, ci si divertiva comunque. Ma non avevate il telefonino? Sicuramente. Eh, è un dispiacere questo? Sì, beh sì, però si stava bene anche così. Anche senza? Sì, sì, sì. Faresti il cambio di epoche? Ti sarà piaciuto nascere quando è nata lei? Ma sarebbe stata un'esperienza sicuramente diversa da oggi e quindi vivere una giovinezza diversa. Però, beh, tante comodità, tante agevolazioni che oggi abbiamo, sicuramente non possiamo negare che facilitino la vita. Però forse, ecco, la naturalezza, la spontaneità che c'era ai loro tempi, noi un po' l'abbiamo persa. Siamo anche molto soli, direi, questi telefoni, queste cose, sicuramente. In che periodo sei nata? In che anno sei nata? Nell'88. Ti sarebbe piaciuto magari nascere nel 2000? Nel 2010? Essere ragazzina adesso? Con i miei alunni, insomma. Ah, eh. Ah, insegni, quindi hai un po' il polso della situazione. Eh sì, sì, sì. Vabbè. È diversa la loro giovinezza dalla tua? Eh, per certi versi sì. Poi, vabbè, anche loro si divertono come ci divertivamo noi, quello sì, sicuramente. Però, certo, è cambiato un po' il modo di divertirsi, il modo di stare insieme, però vedo che alla fine anche loro vogliono l'oratorio, vogliono le partite di calcio, piace stare insieme. E questo sicuramente è una buona cosa, anche per loro che sono nell'epoca dei social, è un'epoca diversa. Infatti nei supporti che si sente, appunto, di cui si sente parlare in questo periodo, anche lo psicologo per gli studenti. E non credo che negli anni 70, 60 ci fosse... No, e invece oggi è super richiesto e quindi anche le scuole hanno dovuto attrezzarsi, diciamo. Per quale motivo? Perché i disagi sono tantissimi, a partire dai disagi in famiglia, ai disagi dei singoli e cercano proprio la conversazione, hanno bisogno di parlare tanto. E sono poco ascoltati anche a casa e quindi hanno questi bisogni che la scuola deve un po' tamponare, sopperire. E' diverso. Allora forse da questo punto di vista era meglio il periodo all'epoca? Sì, meno disagi forse, meno necessità da quel punto di vista. E' così. Di che anno sei? 2001. 2001? 2001. Com'è essere giovani in questo periodo? No, non so cosa rispondere, no. Lo studio all'università. Ok. E niente, quindi nel momento mi trovo bene, studio a Milano. Com'è Milano, vivere Milano oggi? Milano oggi... Meglio Albino, no dai. No, beh, Milano è una grande città, ha i suoi pregi, i suoi difetti, ma sicuramente i pregi della piccola cittadina come Albino, Milano non li ha. Dopo comunque Albino sei vicino a Bergamo, eccetera, anche a Milano non sei lontano, quindi... E rispetto ai tuoi genitori, non ti hanno mai raccontato di loro quando erano giovani? No, sicuramente mi hanno raccontato e insomma tante cose sono cambiate. Non ti è mai venuta a voglia magari, se si potesse fare un salto indietro nel tempo, di vivere negli anni 60, 70? Sicuramente, anni 80. Ci sarebbe quale appunto Italia, anni 80? Cosa, anni 80? Sì, ho sempre anche un po' per i film, eccetera, insomma tutti i film di quel periodo mi hanno fatto sognare, un po' soprattutto quelli americani, eccetera. Quindi sei andato alla ricerca anche di film, proprio della tua epoca? Sì, mi viene in mente uno dei miei film preferiti è Taxi Driver di... Però, anni 70, forse, anni 70, insomma tutti quei film lì mi sono sempre piaciuti, quindi qualcosa a livello di pensiero, sì. Anche la musica? Ogni tanto ti capita di ascoltare qualcosa che appartiene a decenni precedenti? Sì. O come sei più per la musica trap quella che piace ai giovani di oggi? Ma, sinceramente, entrambi, ho ascoltato sia la musica, diciamo, recente, ma anche, non so, qualcosina di Queen, li ho ascoltati, Pink Floyd, però non sono, diciamo, un cultore della musica da anni 80. Età? Quasi 30. E sei felice quindi di aver vissuto i tuoi anni più belli negli anni 2000? Sì, dai, soddisfatta. Sì? Sì, sì. Dici che è stata una bella epoca? Ma sì. Potendo rinascere? Sì. In quale anno ti sarebbe piaciuto nascere? No, penso che sarei rinata nello stesso periodo, sì. Per quale motivo? Perché mi sono trovata bene così. Sì, ma adesso però ci sono anche più... Eh, no, va bene. No, 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 mi sono trovata bene nella mia epoca. Non ti sarebbe piaciuto, per esempio, provare gli anni 50? Non lo so, non ho idea. Intanto non leggi mai, non ascolti mai la musica di quel periodo, i fini di quel periodo? Un poco. No, non ascolto molta di musica. Non ti interessa di tornare a storia per sapere cosa succedeva dal punto di vista politico, sociale, in quel periodo? Non ce l'ho mai pensato, sinceramente, no. Ti vivi la tua epoca? Sì, 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 me la vivo così. E va bene così? Sì. E ti sta bene così? Sì, sì, benissimo. C'è la pubblicità, ma tra poco torneranno le nostre interviste. State con noi. Potendo scegliere un momento della storia in cui venire al mondo, quale anno sceglierebbe? 55. Il tuo? L'ho immaginato, l'ho immaginato. No, era una bella... No, oggi. Oggi no. Oggi no. Perché non le piacerebbe essere un ragazzino oggi? Che futuro c'è? Siamo poi in un momento un po' particolare. Il futuro... Noi siamo stati fortunati, pensavamo al futuro. E c'è il futuro. Oggi? Che programma un ragazzo? Oggi c'è l'intelligenza artificiale. Ah, con quella... Ne facciamo tanto con quella. Ci sono i computer, ci sono i telefonini. Ci aiutano, ci aiutano tantissimo. Però, guardando il futuro, i ragazzi di oggi, io ho tre figli. Uno è in giro per il mondo. Perché cosa vuoi fare? E gli altri due si arrangiano a brigare. Tutto lì. Quindi, invidia per niente loro? Assolutamente no. Mi dispiace per loro. Domanda facile facile. Di che anno sei? 1998. 1998. Bisognava nascere un po' prima per godersi danni belli, no? Me l'han detto anche i miei. Eh, non lì. Me l'han detto, ma non so com'è. Stiamo facendo proprio questa domanda. Ti sarebbe piaciuto magari vivere un'epoca prima, magari quella dei tuoi genitori? Ma sicuramente sì. Stile ritorno al futuro? Ma sicuramente sì. Credo che gli anni 80 dipinti dai miei genitori siano stato un qualcosa di bellissimo. Non posso confermartelo, però dalle foto che ho sempre visto, comunque, e credo che sia stato un bellissimo momento. Come te li hanno raccontati questi anni 80? Allora, le lire prima di tutto, che potevi comprare di tutto, avevano un potere d'acquisto favoloso. E' una delle monete più potenti al mondo. Esatto. Sicuramente le amicizie, i viaggi che comunque ci si accontentava forse anche di quel poco che si aveva a disposizione, invece al giorno d'oggi secondo me bisogna andare un po' oltre sempre al limite, fare viaggi, che ne so, da settimane, mesi interi, viaggi extracontinentali, invece prima magari ci si accontentava anche del weekend con gli amici. Ma tu ovviamente controbatterai. Quali sono appunto i fattori positivi, invece, della tua giovinezza? Della mia? Sicuramente la tecnologia, forse che può essere un vantaggio o svantaggio allo stesso tempo, forse il modo anche di relazionarsi con i coetanei, cosa che al tempo era diverso, bisognava incontrarsi appositamente in un bar o comunque in discoteca. Adesso vedo che tramite social, indipendentemente da quale che sia, comunque... È più facile fare conoscenze con una ragazza, per esempio, di Bari o di Torino? Decisamente, decisamente, piuttosto che una ragazza fuori dalla porta, ecco, quello sì. Certo. Quello sì. Quindi tecnologia... Credo che la grande differenza sia appunto la tecnologia, l'uso del cellulare, eccetera. E forse, forse, ecco, è quella la differenza che prima ci si accontentava di cose magari apparentemente più semplici, cosa che invece adesso bisogna sempre un po' ricercare tramite social o comunque vedere. Ah, quello lì ha fatto così, io devo fare di più. Forse c'è anche un po' di competizione, un po' di competizione, cosa che invece prima da come mi è stata raccontata, però. Però comunque vedevo che erano un pochino più con i piedi per terra, ecco, anche i miei genitori, forse, ho l'esempio dei miei. 1900? 39. Oh, quindi è stato un giovinetto negli anni 50 e 60. Sono giovinetto anche adesso. Certo, assolutamente sì. Ok, ok. Com'era essere giovane negli anni 60? Chiaramente, sai che non mi ricordo? Eh. Anche perché io sono sempre stato, non ho fatto differenza, per me la vita è sempre stata bella. Basta star bene in salute e tutto è a posto. La differenza di quando lei aveva 15 anni e dei 15 anni di oggi? E dei 15 anni di oggi? Eravate più felici voi o sono più veloci di oggi secondo lei? Allora, direi una cosa. Sì. Noi, io parlo del sottoscritto, tanti anni fa, 15 anni, non è che si stesse proprio, cioè c'era carestia, si stava mica tanto bene, era appena finita la guerra. I giovani da adesso a 16 anni c'è tutto quello che ci hanno voglia. Allora? C'è una bella differenza. Allora, potendo rinascere, le piacerebbe di più? Meglio adesso che prima. Adesso? No, per queste cose qui, poi per il resto. Certo. E invece cosa c'è secondo lei che è peggio per i giovani di oggi? Peggio, troppa libertà, troppa libertà. Allora, tanti avendo tutta la libertà sanno anche destreggiarsi, tanti invece se ne fanno su casini e basta. Non è per tutti così, però per tanti è secondo me. Potendo cedere un momento storico in cui nascere? Adesso, con tutta la tecnologia, perché sono amante della tecnologia, anche se mi piacciono le cose vecchie, le cose storiche, però non so cosa, vorrei vedere il mondo fra cent'anni come sarà il mondo tra cent'anni? Eh boh, chi lo sa. Sei con qualcuno invece preoccupato perché dici che domani andremo avanti così con la tecnologia? Ma no, ma no. Cioè, allora la tecnologia serve anche per migliorare la qualità della vita. Quindi la qualità della vita oggi secondo te è migliore di quella degli anni 60-70? Direi proprio di sì. Considera che a 50 anni molti padri morivano. Oggi arrivano anche 80, 90 e anche oltre, quindi del resto ci hanno allungato la pensione a noi per quel motivo lì. Bisogna lavorare di più che per quello. Quindi arriveranno i robot che lavorano per noi. Nei tuoi 15-16 anni, 17 avresti voluto appunto il cellulare. Sì, beh, allora considera anche le ricerche scolastiche di una volta. Quanto tempo buttavamo via per trovare in biblioteca l'informazione. Oggi è tutto... E qualcun altro invece ti direbbe che è bello trovarsi tutti gli amici in biblioteca. No, è ovvio che la tecnologia deve essere utilizzata nel modo giusto, perché se viene utilizzata in modo sbagliato e per cose inutili la tecnologia... Ma anche allora si usavano i libri per fare altre cose. C'era chi era amante del libro, lo legge anche oggi. Invece di leggerlo sulla carta, magari lo legge con un iPad. Si porta in giro 500 libri su un iPad o su un tablet e si legge tutti i libri che vuole. Invece di portarsi indietro la biblioteca. Anche questa è una comodità, se vuoi. Anche da questo punto di vista, anche la musica. La musica. Una volta c'erano appunto le cassette. Film, film, i film. Ma la musica, restano nel campo musica? Quella degli anni 60, 70, 80. Quella degli anni 80 è la disco musica, la disco dance, l'italo dance. Ma quella c'è e rimarrà per sempre. Io penso che tutta la storia che c'è stata prima ci sarà e resterà per sempre. Le auto d'epoca ci sono, ci saranno per sempre, saranno sempre un'icona. Quelle nuove c'è tanta tecnologia, ma non so se poi rimarrà, magari sì, il pezzo particolare, la macchina, magari l'oggetto particolare di designer ci sarà ancora, ma oggi è più commerciale anche l'auto. E quello che si è perso dei tuoi anni più belli, che oggi non c'è più? Il bello. Tante volte, per dire, la fotografia. Guardare una volta la fotografia era un evento, era aspettare. Andavi dal fotografo a ritirare le stampe, del rullino. Che non ce n'era mai dentro una buona. Era tutta una buona. Però era tutta un'attesa, era tutta una voglia di aspettare. Oggi, per dire, tutto, tornando anche alla musica, è tutto troppo semplice, è diventato semplice. E dall'altro canto, invece, è diventato troppo... Quindi semplice diciamo che non è sempre positivo. No, beh, ci sono i pro e i contro. La tecnologia va usata, come ti dicevo anche prima, nella maniera giusta. Tante volte viene usata in maniera impropria. Perfetto. Quindi nel 64, moltissimo. Sì? Non le sarebbe piaciuta nascere nel 95? No. O nel 2005? Peggio ancora. Perché? Per il futuro non è buono. Dice? Sì. Vi posso chiedere se siete felice di essere nate nel vostro anno? Certo. Sempre felice. Non sarebbe piaciuto nascere nel 2005? No, perché? Il destino è questo, va bene così. Stiamo facendo proprio questa domanda per chiedere se è felice di aver vissuto i suoi anni. Sì, sì, sì. Nella giovanza. Perché di fondo, se c'è un po' di serenità, tutti gli anni sono buoni. Sì? Sì. Però adesso c'è anche la tecnologia che aiuta i ragazzi a conoscersi. I ragazzi, io sono una boomer, quindi tecnologia anche tanto. Come si viveva da adolescente nel suo periodo? Con semplicità, però c'era più aggregazione fisica, non tanto virtuale, però anche con un divertimento, anche un po' più sano forse, c'era meno solitudine per me. Quindi qualcosa è cambiato rispetto ai giovani di oggi? Sì, di sicuro. E preferisce la sua giovinezza? Quando vedi i giovani di oggi? Sì, io anzi non ho nessun rimpianto. Mi ricordo che eravamo in compagnia, avevamo tutti la vespa, il ciao, ci muovavamo sempre a gruppi, era abbastanza anche stare sulla strada, però si parlava, c'era aggregazione e tutto quanto. Quindi erano i 70 da nascita? 80. 80, sì. Il ciao più o meno di quel periodo. Sì, sì. Rimpiange il ciao? Sì. Ah? Sì. Non ce l'ho più? No, non ce l'ho più magari, c'era il ciao anche la vespa, nei T3. Perché che bello magari in questi giorni di sole prendere il ciao e andare per un giro farebbe. Unica cosa che, ecco, il casco allora non si usava e ho perso anche degli amici senza casco, il casco andava messo e invece non era obbligatorio. Certo, certo. Che da un punto di vista appunto era la cosa che faceva piacere andare in giro in moto con il vento tra i capelli dall'altro ovviamente. Ma non ci si poneva neanche il problema del casco perché non era obbligatorio con quel tipo di cilindrata lì, quindi non ci si poneva però col senno di poi penso che questa era un po' una mancanza. Certo, certo. Cosa ti ascoltava? Eh beh, la classica disco. Poi ascoltavo tanto anche Rod Stewart, i Dire Straits, i Pink Floyd. Esistono quei gruppi lì oggi, la musica che ascoltano i ragazzi? Esistono solo nella forma delle cover, non più così, non hanno più le stesse dente che caratteristiche, no vabbè, poi ognuno vive la propria gioventù come meglio crede e come meglio si sente. Cosa ruberebbe i ragazzi di oggi per portarlo nella sua epoca? Nella sua giovinezza. Qualcosa che voi non avevate e che invidia i ragazzi di oggi? Buongiorno, ma la signora. Buongiorno, l'unico problema, l'unica cosa anzi che invidio loro è l'essere un pochino più sveglia dal punto di vista informatico, faccio un po' pena, hanno una certa abilità, poi magari l'abilità informatica toglie nella relazione sociale. Quindi rimbiangono anche di non aver avuto il cellulare nei suoi 15-16 anni? Un pochettino di cellulare in più, non mi avrebbe disturbato, no, troppo cellulare, adesso è troppo, però un pochino di più allora non mi avrebbe disturbato. Tanto c'era la cabina, il gettone. Ma no, no, va bene, ma la cabina era sempre occupata, poi dovevi fare le cose sempre veloci e a me piacciono anche le chiacchierate lunghe, quindi va bene così. Questo un pochino lo invidio, come oggi è troppo. E' 1900? 64. 64? Sì, molto felice. Non è sempre piaciuto nascere nel 94? No, 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 no. Cosa c'è stato di più bello a vivere gli anni 70? La serenità, la serenità, la semplicità. Cosa che secondo lei i giovani di oggi non stanno vivendo? Sai cosa, ci sono troppe distrazioni, troppe cose, divertimento, sport, attività, troppo, troppo, troppo e il troppo stroppia. E quindi voi che avevate meno? Meno, eravamo più sereni, forse più sereni e più tranquilli, l'unica cosa che potrei dire è questa. Certo. L'unica differenza che trovo da lui. Come è del futuro invece per lui? Forse per lui sarà normale così, perché non sa come è stato prima. E lei cosa le racconterà? Eh, quando avevo la tua età? Non lo so se glielo racconterò. C'è da dire questo, che la tecnologia ha portato anche l'evoluzione, anche gli studi. Anche in senso positivo. C'è la sanità. Ci mancherebbe anche quello, anche in senso positivo. Cosa invidia dell'epoca dei ragazzi di oggi? Cosa che voi non avevate invece i ragazzi di oggi hanno? Nel senso del dovere. Il senso del dovere? Che non hanno loro e avevamo troppo noi. Sì? Sì. Ci hanno inculcato il senso del dovere. Ed era sempre il senso del dovere. Secondo me invece i ragazzi di oggi ne hanno poco? Boh, da quello che vedo poco. Poi non si generalizza mai. Però non lo so. Ok. Mi sento di dire così. Noi ci fermiamo per qualche minuto per la pubblicità. Voi non andate via perché tra poco torneremo. Quanti anni hai? 22. Quindi sei una ragazza giovanissima. Sì. Ma invidi non avere la sua età? Ti piacerebbe essere nata quando è nato lui? L'anno in cui è nato lui? Sì? No. Un po' più giovane, no? No. No. Per quale motivo? Se intendi il fatto di tornare bambina alla sua età, quello sì. Ah beh, quello sì. Io intendo un'altra cosa. Io proprio intendo... Sì. Sì. Letteralmente. Sei nata nel... 2002. Oh. E non ti sarebbe piaciuto nascere nel 1980? Facciamo un ritorno indietro nel tempo? Eh... Se ci penso ora sì. Perché? Boh, tutta sta tecnologia... Ah. Mi fa un po' paura. Non ti piace molto? No. Penso che ho incontrato delle signore che hanno vissuto l'epoca degli anni 80, che invidiano ai ragazzi di oggi la tecnologia. Dipende. Cioè, stiamo andando troppo avanti. Troppo avanti. Non so se arriveremo a un punto in cui tutte queste innovazioni, queste creazioni, i telefoni si fermeranno. Cosa vedi nel futuro? Allora, nel futuro cosa vedo? Sempre magari dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica. Cosa potrebbe portare? Tante incomprensioni, tanto casino. Più che altro una nuova generazione. Più che altro, ad esempio, se vai in giro adesso i bambini già 10 anni, 9 anni, hanno già il telefonino, oppure magari gli parli, manco ti guardano, stanno lì tutto il tempo, non stanno a socializzare. Una cosa che ho notato ultimamente, stando un po' con i bambini aiutando le figlie delle amiche di mia mamma, quando mi chiedono di accompagnarle così, loro fanno proprio fatica a stare in mezzo alla gente, a socializzare proprio per questo punto. E tua mamma non ti ha mai detto, e la nostra epoca era più bella della vostra? Perché mia mamma c'è 37 anni, quindi è giovane. Ah beh, allora anche lei, insomma. Sta vivendo con me, praticamente. Non ti può dire negli anni 50? No, no, assolutamente. Le chiedo solo se non invidia la sua giovinezza. E come, vorrei tornare, sì, erano tempi un po' più difficili. E quello soprattutto di cui stiamo parlando oggi, era più bello vivere da bambini alla sua età, nel suo periodo? Allora, bella per l'età, perché poi erano tempi, era appena finita la guerra, sono nata nel 1947, per cui non erano tempi facili, però c'era tanta speranza, c'era tanta voglia di vivere. Come ha vissuto i suoi anni 60, in pratica da ragazzina? Sì, bellissimo, tempi belli, musica, tutto nuovo, era tutto da rifare, c'era tutto, tutto nuovo doveva diventare. Adesso si è sfruttato tutto, non c'è più niente di nuovo da inventare, che cosa inventano adesso? E quindi come vede il futuro dei ragazzi della sua età? Ci vuole tanta speranza. E cosa ti piacerebbe, cosa ti sarebbe piaciuto avere, allora che loro hanno? Adesso mi piacerebbe essere più giovane, per poter vivere con lei la sua crescita. Eh, quello, quello, non si può chiedere. Ecco. Magari non le sarebbe piaciuto avere, magari anche nella vostra epoca, il telefonino, come hanno loro? No. Tutta questa tecnologia? No, no, la odio. Io avevo un negozio e quando l'ho chiuso sono stata felicissima perché era il periodo che avrei dovuto prendere i computer e imparare tante cose. Io le odio. Ok, ok. Ho avuto la fortuna di poter... Non gli invidia, non invidia questa età, appunto, la tecnologia, i social network. No, no, ma infatti mia figlia non le fa sfruttare molto adesso, alla sua età, vuole che giochi, che... Sì, le fa imparare qualcosa, ma non troppo, intanto. Poi purtroppo col tempo dovrà anche lei adeguarsi. Può aiutare te perché hai un telefono nuovo e questo. Ha visto, però l'ha preso il telefono. Me l'hanno preso i miei figli, ma è lì, non lo so usare. Guarda. Negli anni Sessanta ci si trovava in piazza. Guarda, che telefono ho io. Ecco, negli anni Sessanta ci si trovava in piazza o si andava in balera. Ci si trovava, c'era molta unione, c'erano le compagnie, poi non so, c'erano magari quelle famiglie che non andavano d'accordo così, però i figli riuscivano a fare delle compagnie che ci si confidavano e i dolori, i dispiaceri che avevamo ce li confidavamo ed era una... sono un po' come le comunità di adesso, insomma, più o meno. Invece noi lo facevamo in casa, nelle cantine, è tutta una cosa così. E la musica degli anni Sessanta? Sì, gli anni Sessanta e poi Settanta, Ottanta, fino agli anni Novanta, musica stupenda. E lei se ne intende? Avevamo il negozio qua, sì, più mio marito, che io poi ho gestito il negozio, per cui qualcosa... Avevate un negozio di musica? Sì, sì, qui in piazza San Giuliano. Le cassette? Sì. Quante le ha vendute le cassette? Oh, quante! Qui era quello più richiesto? Poi avevo lì un commesso che era stupendo, poverino, è morto, 50 anni è morto, però era di una bravura pazzesca, veramente, sapeva fare cose quasi impossibili, ecco. Mi dica chi erano i più venduti, i gruppi cantanti più venduti di quel periodo. Parliamo dei Poo, qui in Albino, i Poo li abbiamo venduti da... Sì. I Queen, Zucchero, quando è uscito con i suoi belli album, sì, parecchia musica. E tu ascolti le canzoni dei Poo? No. Chi sono i Poo? Chi sono? Eh, cosa si perdono? Cosa si perdono? Grazie. Chiudiamo qui il nostro appuntamento settimanale con il Sassonello Sagno, ovviamente con i ringraziamenti a Vladimir Lazzarini per le riprese a montaggio e a voi che ci seguite tutte le settimane. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima con il Sassonello Sagno. Grazie a tutti.